Si possono caricare più assicurazioni su Portavenea? Assolutamente sì, tra l'altro si possono utilizzare anche, ma vi sconsiglio di utilizzarlo, assicurazioni differenti, una per ogni sal, anche perché io potrei magari iniziare un cantiere con un'assicurazione di un milione di euro di massimale, inizio un cantiere da 100.000, faccio il primo sal, ne faccio altri 9, quindi ho 10 totali, arrivo al milione, poi sul premio si può discutere, comunque sul massimale separato si può discutere, arrivo a un milione e i secondi sal li faccio tutti con un'altra assicurazione, un'altra compagnia, eccetera. Si può fare, l'Enea non discute su questa cosa, consiglio che ovviamente su ogni cantiere di avere, anche volendo un'assicurazione dedicata, ma non è richiesto, non è necessario, può essere cumulativo, però non mischiare compagnie diverse, si possono avere più assicurazioni, ma non mischiate compagnie diverse sugli stessi cantieri, questo dello sconsiglio.